Campionamenti sui vegetali e permanenza del divieto d'accesso negli edifici coinvolti dall'incendio all'ex TAB. Si è concluso così il tavolo tecnico richiesto dallo stesso sindaco di Foiano, al quale hanno partecipato oltre al primo cittadino il responsabile del SUAP, il comandante della polizia municipale, ARPAT e del dipartimento di prevenzione. È stato definito così il piano di monitoraggio successivo all'incendio al fine di individuare delle aree maggiormente interessate alle ricadute degli inquinanti. Saranno infatti effettuati alcuni campionamenti sui vegetali a foglia larga, martedì 19 aprile. Saranno integrati, si legge nella nota diramata, i provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale con ordinanza 44 del 16 aprile 2016, specificando che dovrà essere limitata la permanenza delle persone e l'attività all'esterno delle abitazioni limitrofe all'area dell'incendio. Per la popolazione nelle ditte che sono prossime alla zona interessata, resta confermato il divieto a rientrare negli edifici fino a che non saranno ultimate le operazioni di messa in sicurezza dell'area incendiata. La presenza di eventuali pennacchi di fumo rientra nella normale evoluzione della fase post-incendio. L'amministrazione comunale ha già convocato il curatore fallimentare per la definizione degli interventi per la messa in sicurezza del sito, in considerazione alla presenza, in parte di copertura di lastre ondulate contenenti amianto. A tal proposito, precisano nella nota, l'incendio ha coinvolto solo parzialmente le porzioni di stabilimento con copertura in amianto, per quanto parte della stessa era già stata sostituita.